Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Raimondo Todaro ha recentemente aggiornato i suoi follower su Instagram, condividendo una foto dall'ospedale che ha suscitato preoccupazione tra i fan. Il ballerino, ex insegnante di Amici, ha rassicurato tutti dicendo, tutto bene, grazie per i messaggi. Il ricovero sembra essere legato a controlli di routine, dopo un passato segnato da gravi problemi di salute. Nel 2020, infatti, durante una serie di esami di routine, gli vennero diagnosticati due tumori maligni, scoperti in seguito a un appendicite. Todaro, che ha raccontato la sua esperienza a Verissimo nel 2023, ha affrontato due interventi chirurgici a distanza di nove mesi. Durante quel difficile periodo, il lavoro lo ha aiutato a distrarsi, ma la sua principale preoccupazione era per la figlia Yasmin, avuta con Francesca Tocca. Todaro ha descritto quei momenti come devastanti, ma ha cercato di mantenere un sorriso per non far pesare la situazione agli altri.